Noi facciamo parte delle USCA, che sono appunto queste unità speciali di continuità assistenziale che si occupano di monitorare e seguire pazienti ad Arezzo Covid positivi per cui noi fondamentalmente facciamo attività di monitoraggio e nel caso in cui sia necessario andiamo a fare delle visite ovviamente con i dispositivi, le protezioni necessarie. Marina è un medico, lavora nel servizio di continuità assistenziale e nelle USCA da circa un mese non torna al proprio domicilio perché abita con i genitori e vuole evitare di contagiarli. È una sensazione per quanto la situazione è assurda, però bella il fatto di stare vicino comunque a tante persone che si trovano in una situazione così faticosa. Personalmente è un periodo un po' strano, un po' come per tutti anche il fatto comunque di vivere in isolamento non è sempre facile però insomma anche stare insieme ad altri colleghi che vivono in hotel come me è anche diciamo bello il fatto di poter fare magari una parola la sera quindi si prende un pochino il buono che c'è in questa situazione. Pensare che dal 4 di maggio c'è chi pensa che è un po' Tana libera tutti cosa ti fa, cosa si fa, come commenti? Sì diciamo che è proprio adesso secondo me che dobbiamo veramente mantenere la guardia alta perché nel momento in cui sono allentate certe misure è proprio lì che secondo me dovrebbe emergere un pochino il senso civico, il senso di responsabilità per cui sì prendiamoci magari qualche libertà in più però senza esagerare perché è proprio questo momento in cui chiaramente c'è un allentamento che c'è il rischio poi di un nuovo picco e di altri contagi che purtroppo un pochino temo saranno messi in conto però bisogna vedere l'entità di questo nuovo picco quindi dipende da noi anche. Grazie.